Pioniere delle lotte per i diritti civili degli afroamericani, Martin Luther King, il reverendo. Figlio di un pastore, della chiesa battista e di una maestra, si accorge presto di essere diverso. Sceglie la religione come unico appiglio per dare un senso alle ingiustizie, alle rinunce a cui è costretto. E le sue prediche lo rendono famoso, il suo spirito combattente e la sua retorica smuovono gli animi. Nel 1955 le proteste pacifiche di due donne danno una svolta anche alla sua storia. Claudette Colvin e Rosa Parks, a distanza di pochi mesi, si rifiutano di cedere il loro posto sull'autobus a due uomini bianchi. Nel 1963 la marcia su Washington e il suo discorso sul sogno di un futuro possibile lo consegnano alla storia. E il proiettile che lo raggiunge e lo uccide nell'aprile del 68 spegne la sua vita, ma non la sua voce. La sua storia resta scolpita nella memoria storica, la storia del...